Si tinge sempre più di giallo la scomparsa di un imprenditore in pensione, Luigi Pirrera, 68 anni di Favara, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. In un primo momento si era pensato ad una fuga volontaria, ma con il passare delle ore cresce l'ipotesi che all'uomo possa essere successa qualcosa di grave. Alcuni indizi raccolti dai carabinieri della tenenza di Favara, che si occupano delle intagini, cominciano a far temere il peggio. Le intagini dei militari sono concentrate in ambito familiare e nella cerchia di alcuni conoscenti. Dall'interno dell'auto di Pirrera, una Volkswagen Golf ritrovata parcheggiata in un'area vicino allo stadio comunale, i carabinieri avrebbero trovato tracce ritenute importanti per le intagini. Il pensionato domenica mattina, come d'abitudine, è uscito di casa ed ha preso la sua macchina. Verso le 10 la moglie lo ha chiamato sul cellulare per chiedergli di comprare il pane. Il telefonino ha squillato a vuoto e da quel momento del 68enne nessuna notizia. L'unica traccia è gli impulsi che mantava il cellulare di Pirrera, gli ultimi sono stati segnalati a Messina. Dal tardo pomeriggio di ieri il telefonino dell'uomo risulta spento. Le ricerche nel territorio agrigentino proseguono senza sosta. Per tutta la giornata di ieri il territorio tra Agrigento, Favare e Racalmuto è stato sorvolato da un elicottero, mentre a terra i carabinieri e i cani del nucleo cinofili hanno perlustrato una vasta zona.